Ho una storia vera da raccontare, tutti mi gustano così, ma pochi sanno che sono buonissimo anche secco. Un individuo ci ha fatto il bagnetto e dopo si è messo in testa di sbucciarci, continuando a dire mamma, quanta pazienza ci vuole. Comunque questo è il risultato, dopo con un coltellaccio ci ha per bene bene tagliati, continuando a dire state fermi per favore, state fermi per favore, state fermi per favore. Dopo siamo stati riposti in un cassettino, ed infilati in un essicatore. Siamo rimasti tutta la santa notte, ed già all'alba, eccoci belli e secchi. Il risultato, dicono i commenti, è che conserviamo tutto il gusto, ed io aggiungo che manteniamo tutte le virtù di vitamine, antiossidanti e sali minerali perché ci viene tolta solo l'acqua. Così secchi resistiamo per mesi e diventiamo golosissimi snack, antipasto, dopo pasto, senza conservanti, senza coloranti e aggiunte di sapori artificiali. Siamo naturali al mille per mille. Scusate ho una brutta tosse. E allora mi faccio una doppia dose di kiwi secchi.